Signore e signore, siamo qui riuniti per celebrare la cerimonia di investitura del massallo Luis II. Salve Luis. Salve signore. Grazie al potere conferitemi dalla chiesa. Vuoi tu, Luis II, diventare il mio figliato massallo? Sì, sì, lo vado. Mi prometto che porterò a fermi nel prossimo tempo. Inginocchati, disarmati e pon le tue mani tra le mie. Sì, vi prometto e vi giuro che d'Italia aiuta a voi da registrare questo nostro splendore bene. Io, signore dell'impero carolingio, offro a te, Luis II, il Ducato Lombardo, che dovrai amministrare e proteggere da ogni attacco limite. Grazie, signore, per questa vostra fiducia. E vi prometto che anche il nostro invalco sarà portato a fermi. In segno di beneficio, io, vostro signore, vi dono quest'eterno, che... Grazie, signore, per questo vostro invalco. Vi prometto che farò l'uso di quest'eterno e mi permetterò a proteggere da ogni razza. Io incorrono te, Luis II, duca della Lombardia. Grazie, signore. Ora, insieme al Vassallo, si dà una valutata in segno di rispetto. Dichiaro la cerimonia di investitura del Vassallo Luis II conclusa. Grazie. Grazie.